Da una cella a questo luogo oscuro, la morte a 25 anni, la mia lingua non riusciva a esprimere e ciò che mi si agitava dentro e il villaggio mi prese per scemo. Scemo! 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 Eppure all'inizio c'era una visione chiara, un proposito alto e pressante nella mia anima che mi spinse a cercare di imparare a memoria tutta l'enciclopedia britannica. Ma tutta, eh? Tutta, tutta. Dall'inizio alla fine. Tutta, tutta. Non è che ho saltato, tutta. Tutta, tutta.